Siamo a fine gara della partita Girifalco-Vallata del Torbido. La capolista è stata fermata dal Girifalco di Mister Massimiliano Cossari. Mister, 1-0-0 è importante nel contesto di una partita non esaltante dal punto di vista del gioco? Sì, sicuramente era importante per noi non perdere. I ragazzi sono un pochettino così abbattuti, quindi per noi oggi era fondamentale non perdere. Sapevamo della forza della Vallata e quindi in qualche modo abbiamo cercato di creare alcune occasioni importanti. Abbiamo avuto un'occasione molto importante, non siamo riusciti a concretizzare. Stesso discorso anche a Pianopoli, quindi in questo momento facciamo fatica a trovare il gol. Dobbiamo lavorare sicuramente su questo, però sicuramente anche la Vallata ha avuto le sue occasioni. Io penso che alla fine è un risultato tutto sommato giusto. L'assenza di Quirino ha inciso sicuramente per quanto riguarda la produzione offensiva? Sicuramente Quirino è per noi un elemento importante, è un elemento che può darci qualcosa in più. Oggi era squalificato, non ha giocato, però sicuramente non è arrivata la vittoria non per Quirino. Sicuramente abbiamo dei limiti, Quirino era in campo anche a Pianopoli, abbiamo fatto fatica anche là a trovare gol. Quindi sicuramente in questa settimana dobbiamo cercare di lavorare su alcune situazioni di gioco. È un percorso di crescita, io sono arrivato adesso qua a Giri Falco, quindi terza partita per me. Quindi c'è un po' di cambiamento, società nuova, spogliotoglio nuovo, mister nuovo. Quindi per noi non abbiamo ambizione. Speriamo di poter ottenere un risultato importante anche col Parghilia. Il mister della Vallata, il signor Vallelonga, 1-0-0 dicevo con mister Cossari, non esaltante dal punto di vista del gioco. Che vi ha in qualche modo frenato nella vostra rincorsa, la prima posizione? Frenato nel senso che dite voi, perché non siamo noi che dobbiamo vincere il campionato. Comunque una vittoria, penso che per come abbiamo espresso il primo tempo, abbiamo avuto 3-4 palle gol, ci poteva stare. Però poi è vero pure che all'ultimo quasi abbiamo rischiato con un errore del nostro giocatore che poteva costarci caro. Però tutto sommato non è stata una partita bellissima da vedere, però una partita di tutto rispetto. 1-0-0 che sicuramente vi penalizza oggi, ma che non vi blocca in quello che sarà il prossimo del campionato. No, senza dubbio. Dobbiamo fare tesoro degli errori fatti, perché come dicevo prima, quando vai fuori casa con una squadra che ha bisogno di fare punti e sprecare 4-5 o 4, non ricordo bene, palle gol, bisogna essere più bravi nel finalizzare almeno una. Però siamo, come ho detto i ragazzi, dobbiamo fare tesoro dei nostri errori per cercare di migliorare. Comunque sul piano della voglia dell'attaccamento penso che non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché ci hanno provato. Poi capita nell'arco del campionato di non sempre, forse eravamo abituati bene a vincere sempre per questo.